E nel segno del ricordo della Resistenza, la prima manifestazione pubblica della Valsusa post-Covid. Domenica 5 luglio il Col dell'Issa è ricordato il 76esimo anniversario dell'eccidio del 2 luglio 1944 in cui persero la vita 32 partigiani della 17esima Brigata Garibaldi Felice Cima trucidati da nazifascisti. La manifestazione, che ha visto la partecipazione del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, rappresentato da Mauro Salizzoni, è stata assegnata dalle limitazioni per il contrasto del coronavirus che hanno impedito lo svolgersi dell'edizione secondo il consueto cerimoniale. Anche Eurolis, la tre giorni di meeting giovanile aperto alle ragazze e ai ragazzi d'Europa, quest'anno ha visto protagonisti i soli giovani piemontesi chiamati a rappresentare i loro coetani italiani e stranieri. Immutato però, lo spirito della commemorazione del Col dell'Iss, che vuole trasmettere l'importanza di essere uomini e donne liberi, soprattutto alle nuove generazioni. È importante ricordare perché la memoria talvolta tende a svanire, perché purtroppo stiamo rivedendo alcuni rigurgiti che sono molto, molto, molto preoccupanti. Non è vero che i fascisti non siano tra noi, ce ne sono ancora tra noi e ce ne sono tanti. Molti episodi lo dimostrano, molti episodi di violenza, di intolleranza. E quindi è bene ricordare ai giovani, soprattutto, quello che è stato e quello che non deve più essere. Quest'anno la manifestazione ha riflettuto su un aspetto poco noto ma fondamentale della guerra di liberazione. L'assistenza medico-sanitaria ai partigiani curati in ospedale clandestini e corsie fantasma. Alcuni dei valori di quell'epoca devono essere ben presenti proprio dopo l'epidemia del Covid. Abbiamo la dimostrazione che due dei valori di riferimento della lotta partigiana, che sono la giustizia sociale e la libertà, sono anche il modo con cui può ripartire la sanità pubblica dopo queste esperienze. La lotta partigiana ha vinto anche perché ha creato collegamenti, comunicazioni, collaborazioni e quello vincente anche in sanità, dove non vince la competizione ma le sinergie tra le varie strutture ed è quello che si cerca di costruire, per esempio, con la rete oncologica che qui oggi rappresento.